La rimodulazione del PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe avere effetti devastanti sul territorio terramano. Secondo il rapporto del Lance, l'Associazione dei Costruttori, 249 opere pubbliche per un valore di 88 milioni di euro sono a rischio di perdere i finanziamenti previsti. Si tratta di interventi di grande rilevanza per la cultura, il turismo, l'ambiente e la sicurezza della provincia, alcuni dei quali già in corso di realizzazione o in fase avanzata di progettazione. Una questione su cui il sindaco di Teramo e presidente regionale del Lance, Gian Guido D'Alberto, ha espresso la sua preoccupazione e il suo disappunto. E dati decisamente preoccupanti ma che confermano l'allarme che io sto lanciando ormai da mesi, la scelta senza alcun senso politico istituzionale di questo governo di destra, della presidente Meloni e del ministro Fitto, di definanziare i fondi PNRR dei comuni. I comuni hanno già appaltato il 90%, oltre il 90% delle opere stanziate sul PNRR dal precedente governo e questa scelta rischia di mettere in forte difficoltà i comuni, rischia di mettere in ginocchio le aziende e i lavoratori. Senza alcun senso perché non è stata trovata al momento la copertura finanziaria alternativa. Tra le opere a rischio a Teramo ci sono il recupero del Teatro Romano e la riqualificazione del Castello della Monica, due siti di grande valore artistico e storico. Pretendiamo che si torni indietro e che siano garantite queste risorse immediatamente come alternativa perché non si può correre il rischio di perdere finanziamenti così importanti, di disegnare le città come abbiamo fatto al Comune di Teramo, ma direi nell'intera provincia e in tutto il paese. Questo silenzio è inaccettabile, il governo dica dove va a prendere le risorse e non va a prendere le risorse che già aspettavano i comuni perché questo gioco delle tre carte è assolutamente inaccettabile. Questa destra di governo è contro i comuni, penalizza gli enti locali, penalizza le città e non possiamo tollerarlo.